Operazione antidroga della polizia nel complesso di edilizia popolare del Parco Verde di Caivano, nel Napoletano. Agenti della squadra mobile, dopo un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP partenopeo nei confronti di un gruppo criminale specializzato nel traffico e nella cessione di ingenti quantitativi di droga. L'intero quartiere è stato circondato e sono in atto per acquisizioni e controlli da parte anche dei poliziotti del reparto Prevenzione e Crimine Campania, del quarto reparto mobile, del sesto reparto volo e con unità cinofile e il supporto dei vigili del fuoco. Il Parco è una delle piazze di spaccio più importanti dell'Interland Napoletano.